ciao a tutti e bentornati su indie gameplay ita oggi siamo su call of the sea un gioco che trovate in vendita su steam a 1999 ed è un gioco che è uscito oltre un anno fa non ho avuto modo di provarlo prima oggi ne ho avuto l'opportunità e per opportunità intendo che gli sviluppatori si sono impietositi e mi hanno mandato una copia del gioco per farci il video pensate che in questa richiesta c'era anche l'embargo che scadeva nel dicembre del 2020 quindi insomma fuori tempo allora che cos'è vi preannuncio subito che lo giocheremo poco perché questo è uno di quei titoli per cui sarebbe un delitto andare a spoilerarvi tutto cioè diventerebbe una soluzione dopo e non è quello che voglio perché anch'io sono sempre alla costante ricerca di un gioco un po sulla riga di mist un po sulla riga di obduction un po sulla riga di quern e non ne trovo mai uno perché quern è troppo astratto mist e obduction troppo simili appunto astratti futuristico eccessivamente obduction the witness è veramente tosto insomma cerco qualcosa di più realistico questo si avvicina un pochino le mie richieste poi se avete dei consigli su giochi del genere ad enigmi ad avventura enigmi più magari verosimili fatemi sapere questo call of the sea è basato sulla mitologia di cthulhu non in stile horror però cosa che io ho apprezzato molto lo cominciamo dall'inizio perdiamo tutti i progressi e lo iniziamo in che cosa consiste beh l'inizio dell'avventura ve la posso raccontare senza magari tediarvi troppo da dei video di gioco che sono bellissimi la grafica è veramente ultra colorata ultra interessante ci giochiamo il prologo e ci giochiamo il capitolo 1 che io tra l'altro ho risolto ma non al 100% perché non ho trovato tutto quindi questa è lingua chiaramente cthulhu e in che cosa consiste beh noi interpretiamo questa donna il cui marito è scomparso stiamo vedendo un sogno adesso molto vivido che ricorda un pochino anche quelle che sono le ambientazioni magari un po di subnautica e ci ritroviamo in questo fondale a nuotare il prologo e non c'è nulla nulla di che da fare non è uno di quei giochi dove collezionate mille oggetti e li dovete usare almeno nell'inizio a me non è passo così lei è già stata qui infatti vede tutti gli oggetti della sua vita le porte l'orologio e a breve non vi dico ancora nulla a breve scopriremo qual è il problema che affligge questa donna il perché suo marito è scomparso e noi dobbiamo andare a trovarlo ovviamente se non avrebbe senso macchina per scrivere la lanterna petrolio le scale pare essere un un tema ricorrente quello delle scale come uno scaffale una sedia le voce le voci la stanno chiamando arrivati a questa questa serie in cui c'è un carillon che è rotto devo aggiustarlo deve prenderlo e la vita di questa donna è legata a questo carillon perché noi possediamo questo carillon e lei continua a a sognare quest'incubo da quando sua madre è morta e gli ha lasciato quel carillon suo marito sostiene che questo cimelio ha qualcosa che fare con la malattia della sua famiglia infatti adesso vedrete che cosa quando gli si vedranno le mani i dottori non sanno dare una spiegazione alla malattia e infatti suo marito ha deciso di partire per trovare una cura oltre a queste macchie siamo sulla nave ovviamente il capitano ci sta dicendo che l'ancora che è stata calata tra tre minuti lasciano le lascia lupa insieme diciamo a motore ora dobbiamo prendere le cose ma intanto vi spiego il marito è partito alla ricerca di una cura e sul diario potremmo leggere tutte le note perché loro all'inizio si scrivevano poi sono passati circa tre mesi e non si è perso ogni ogni contatto lei però ha ricevuto questo pacco e all'interno di questo pacco c'era una cosa intanto lei si copre le mani ma non per vedere i suoi difetti insomma abbiamo una valigia come aprire la valigia e qui la prima cosa che potrebbe ostacolarci ma la mentalità giusta è quella di aprire il diario e andarcela a vedere vedete che qua già c'è un numero vi spoilererò pochissimo dico di stare tranquilli con le frecce si può sfogliare ma al momento non c'è nulla passiamo al registro il registro appunto vi dicevo ve lo dovete leggere perché è molto interessante vi raccontare la storia di quello che è successo insomma da quando lui è partito e così noi inseriamo il numero che abbiamo letto qui era già giusto e qua apriamo il forziere all'interno del pacco che lei aveva ricevuto c'era questa foto con la foto lui del marito di harry con la scritta finding trovalo questo pugnale e questa immagine questa era la ricevuta deve ancora prendere alcune cose qua vabbè abbiamo in pratica c'era scritto raggiungi quest'isola a sud di tahiti e dietro alla foto scusate questo me l'ho dimenticato c'era una chiave che ho scritto cv quindi noi la prendiamo dovremmo esserci dovremmo aver preso praticamente tutto ok andiamo e ora si parte qui c'è la prima diciamo botta emozionale perché la grafica almeno per quanto mi guarda mi ha travolto ultra colorata nulla che faccia pensare a un background di fondo in stile ctulu torneremo a prendervi fra tre giorni spero davvero che li troverete a vostro marito da quello che si evince dal diario questo signore non voleva portarla su quest'isola lei lo ha supplicato per giorni e lui non ha voluto neanche un pagamento ha detto vi porto basta che poi mi lasciate in pace infatti la porta qui e dopo tre giorni torna a prenderla e come vi dicevo qui c'è la prima botta emozionale perché lei ha visto quest'isola e ci stiamo avvicinando guardate che colori ricorda un pochino anche il gioco dei pirati di microsoft insomma molto colorato il mare azzurissimo il verde la foschia in fondo questa montagna altissima lei intanto parla e dice sei partito un anno fa in cerco di una cura per la mia malattia ti sentivo vicino con le lettere ma poi hai smesso di scrivermi cosa è successo vengo a cercarti lui ha ingaggiato questa squadra per navigare da san francesco tahiti da lì fino a un'isola in mezzo al pacifico a tot miglia appunto come diceva questa indicazione e lei dice perché quest'isola non la vuole nominare nessuno comunque l'isola gli sembra ricordare quella del sogno che lei ha disegnato perché questo è un disegno che ha fatto lei appena finito un sogno e guarda caso l'isola è proprio quella inizio boom che poi con una grafica del genere un'acqua comunque carina gli si può perdonare una cascata fatta così sapete che io sono sensibile alle cascate ma è un'isola che tra l'altro ha degli spuntoni che tiene lontani tutti perché questo un altro un altro mistero di questo di questo viaggio che andremo a fare è una grafica che ricorda un po' uno shader insomma un po' la zelda protetta da pali in realtà sarebbero gli spuntoni però e adesso arriviamo lasciamo qui la nostra valigia i nostri remi abbiamo la barca a motore e iniziamo ad esplorare l'esplorazione vanta anche degli oggetti nascosti degli achievement nascosti dei collezionabili insomma io non ho tra l'altro completato del tutto nel primo capitolo che è quello che andremo a vedere adesso nel primo capitolo c'è fondamentalmente un solo oggetto un solo enigma scusate però ci sono tanti oggetti dove se ci andiamo vicino vedete non compare subito cioè dobbiamo essere attenti noi e vedere ok ci sono al momento lei cammina piano non abbiamo la corsa ma c'è un motivo non possiamo saltare c'è stato qualcuno vedete possiamo vedere che la lama non è affilata di questo macete e trovare questo foglio che è scritto in francese non ce lo traduce non ce lo traduce non ci dice la traduzione ma insomma quello che posso capire noi abbiamo profanato quest'isola e non possiamo trovare che la morte è un avvertimento qua abbiamo una barca in stile polinesiano e dicevo lei non corre non avete la corsa ma in realtà se leggete il diario lo sapete infatti adesso lei può correre ma c'è un motivo la malattia che ha la rende molto debole ma su quest'isola prende tutte le forze che gli servono qui ci sono dei simboli che sembrano rappresentare il mare qua si fa una sua teoria e se la segna sul diario infatti potete andare sulle note vedete ha già identificato un simbolo e qua ci fa pensare che forse sarebbe stato più bello se avessimo potuto fare noi la foto come si fa in altri giochi e unire i puntini da soli mentalmente questo lo avrei apprezzato però per chi vuole qualcosa di diciamo non cervellotico non ci può stare lì c'è una porta chiusa e quindi noi proseguiamo di qua cerco di andare relativamente veloce perché non voglio esploriamo ci sono delle cose nascoste che possiamo trovare adesso poi vi farò vedere esplorare ogni anfratto può essere sempre utile come ad esempio vedete è la cosa che vi posso dire è abbastanza guidato all'inizio perché qua questa pietra qui vedete che è un po' strana no? però è tutto scriptato dalla storia quindi questo può essere una parte negativa ma chi vuole un'avventura una storia interessante da seguire con degli enigmi da risolvere questo può essere un bel gioco e vi rinnovo la mia richiesta se avete delle avventure a enigmi magari più verosimili non legate a leggende e cose fatemi sapere che sono molto curioso un po' alla mista ma più moderne insomma vedete qui c'è la pietra con i fiori la pietra e sotto c'è questo quindi abbiamo tra l'altro la foto che ci è arrivata insieme appunto alla foto la foto che ci è arrivata il messaggio insomma diceva trovalo e dietro il foglio c'è una chiave la chiave apriva questo forziere che era qui e dentro questo forziere è parata una sorta di caccia al tesoro e ci dice guarda dove c'è la pietra con i fiori vedete adesso ci possiamo interagire la possiamo spostare trascinando col mouse e possiamo prendere questo clic destro la mettiamo via e ora possiamo utilizzarla questi ci spiega che raccontano una storia una di qua si attiva lì si attiva lì e la porta si apre musiche molto belle la grafica e cartoon veramente molto bella anch'essa è la prima volta che viola una proprietà privata qua abbiamo i primi indizi abbiamo un una Lady Shannon ci dice dove guarda sul diario perché il nome mi è familiare ma qui c'è una foto con Harry è stato qui poi se lo troveremo mai chi lo sa comunque la nostra avventura non è che agli inizi qua il primo enigma c'è un ponte meccanico che dobbiamo aprire e qua ci sono dei simboli dei simboli che potrebbero assomigliare a quello che abbiamo registrato prima vediamo se c'è qualcosa di simile ma direi di sì eccolo qua ma in che ordine beh il mare era legato al mare quel simbolo quindi lo dovremmo mettere qui immagino questo lo risposto di là così ma la nostra avventura continua ecco come ho detto io in questo gameplay non voglio spoilerarvi troppo mi farò vedere giusto qualcosina ancora perché poi aprendo il ponte partirà il secondo capitolo sono sei capitoli in totale abbiamo giocato il prologo il primo capitolo ma il primo è forse quello più corto andando avanti nelle parti centrali i capitoli diventano più lunghi e più o meno possono durare esplorando bene tutto risolvendo bene tutto anche vedete che qua sole col simbolino lì e se lo annota può durare anche cinque no beh aspettate sei sette ore l'avventura sei sette ore diciamo con il ritmo che volete se ci andate avanti correndo come sto facendo io ora perché ho già fatto anche molto meno se sapete già le soluzioni ma se ve lo volete godere vi volete godere tutta l'ambientazione i suoni le musiche l'esplorazione ci metterete sicuramente di più venti euro per sette ore insomma se lo valutate come non so un'esperienza da sette ore venti euro non è male ci sono esperienze che durano due minuti e costano novanta euro insomma quindi e qua ci viene dato un altro indizio ma si fa tutte le sue interpretazioni vedete questo avremmo potuto interpretarlo noi che gli uccelli erano legati vedete a questo simbolo qui sarebbe stato più figo oddio sarei ancora qua diciamo imprecando perché non ci sarei arrivato però sarebbe stato figo poi magari in futuro diventerà così riguardo agli oggetti questo vedete è un oggetto di quelli nascosti e se li trovate tutti completate il capitolo al 100% io purtroppo non li ho trovati tutti comunque abbiamo 4 e me ne manca 1 credo perché siano 5 il problema è che io il quinto non l'ho mai trovato e quindi sono andato un pochino così a esclusione non so se effettivamente da qualche parte nel ponte ci sia il il quinto cioè ci sia modo di trovarlo il quinto però cosa interessante è che se noi sblocchiamo questa leva attiviamo una shortcut e quindi torniamo alla scorciatore iniziale quindi torniamo qui dove siamo sbarcati dove abbiamo trovato il primo simbolo dove abbiamo trovato le altre cose qui ci sono cose magari che che possiamo anche magari commentare le troviamo solo a scopo di di lore però lì dove abbiamo trovato il primo primo pezzo per apparire la la porta qui si continua ci sono questi bagliori di luce interna qua c'è qualcosa no no però la grafica è molto molto plastica molto carina non ho esaminato qua se c'è qualcosa no ma credo non ci sia nulla da esaminare e quindi tecnicamente noi dovremmo avere quasi tutti i simboli me ne manca uno poi per vostra completezza se volete esplorare se deciderete di giocare il gioco lo esplorerete allora il sole con i tre simbolini in alto quindi vediamo allora tre simbolini in alto il sole giustamente questo poi abbiamo gli uccelli che sono le tre frecce che sono subito qui poi abbiamo il mare che l'abbiamo già messo e i pesci e i pesci che sono ovviamente il simbolo del pesce verso il basso quindi tecnicamente questo è il primo enigma è anche l'unico che vi mostrerò manca il simbolo in mezzo il simbolo in mezzo è quello che ci manca che è la montagna quindi o troviamo qualcosa che punta verso la montagna e lo inseriamo o andiamo intuito e l'unico che non abbiamo usato sembrerebbe essere questo quindi clicco e si completa quindi qui elementi meccanici che mi fanno sempre impazzire e abbiamo accesso finalmente al secondo capitolo dell'avventura il primo capitolo è stato abbastanza l'abbiamo fatto abbastanza di corsa adesso partirà il caricamento gli altri capitoli aspettatevi comunque più lunghi ora sapevo già dove andare sapevo già cosa fare intanto ci sono queste scene diciamo di caricamento in cui vedete lei come che è anche sulla locandina di gioco e continuiamo la nostra esplorazione abbiamo camminato probabilmente per ore e andiamo a scoprire nuove cose ma ovviamente sarebbe un delitto continuare perché vi spoilererebbe troppo quindi io vi saluto e fatemi sapere cosa ne pensate alla prossima e ciao ciao grazie a tutti